Aggiungo, faccio un ritmo, un messaggio, vogliamo vedervi tutti dentro con noi, fai un messaggio, un ritmo, vi apparliamo un messaggio, questa è una terra di danza, è vero? C'è sì, in mano con noi, a mamma con le mani, anche la giù, un centro-destra è sempre indeciso, un centro-sinistra è ancora peggio, un centro-sinistra è ancora peggio, un centro-sinistra è ancora peggio, a mamma con le mani, a mamma con le mani, fiesta, fiesta di San Giovanni, d'accordo? E Montemarino, che è? Montemarino, che è? Allora, esate in mano, un po' fuori, ti facciamo, un po' la caccia, 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 un po' la riga, un po' la fuori, c'entra è in mano, un po' fuori, le mani, tutti per noi, è un altro, con noi, c'è te, Si sta in linea, as portate in da ruota, si stella in da ruota, che è a mysteriouse, io sto in calzo, io sto in calzo, io sto anche in calzo, io sto in calzo, io sto in calzo, io sto in calzo, aè miplatmi.. Si, io tu, 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 Buongiorno! SFT BOYO Salve mi fratelli OVU Non mi sento Salve me qualcosa OVU Non mi sento Salve me cosa OVU Non mi sento Salve me qualcosa OVU Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.